Intanto, grazie a Daniele Lorenzini di aver accolto un po' il nostro invito a partecipare attivamente a questi nostri incontri, come sai, questi sono incontri che chiamiamo laboratorio di teoria critica, come ti ho spiegato, lo dico appunto per ricordarlo a noi, ricordarlo a te, ma noi siamo ben consapevoli di questo, cerchiamo di condividere alcune letture, che inquadriamo in un senso molto ampio di teoria critica e il tema è sempre quello di cosa fare poi di queste letture. In questo caso ci chiediamo cosa fare del tuo libro, ma in generale, appunto, come abbiamo già fatto in altre occasioni, di come utilizzare anche le idee fucoltiane per un lavoro di teoria critica. In questo senso, appunto, credo che tutti stiano al corrente del fatto che oggi, appunto, discutiamo, presente l'autore, di questo bel libro di Daniele Lorenzini, che si chiama The Force of Truth, Critique, Genealogy and Truth Telling in Michelle Foucault, pubblicato da University of Chicago Press, 2023. E' un bel libro, un ottimo libro, ho fatto una recensione su filosofia morale e moral philosophy, il fascicolo, approfitto a fare pubblicità alla rivista, che è appena uscito il fascicolo nuovo, il secondo fascicolo del 23, mettiamo poi in ritardo, ma ci siamo. Non dico niente di quello che ho scritto nella recensione, semplicemente perché, appunto, Daniele in realtà già la conosce e se vorrà, terrà presente le mie osservazioni dopo. Io qui vorrei lasciare più spazio a lui. Mi limito come introduzione soltanto a dire questo. A me è piaciuto molto questo libro, oltre che per i contenuti, l'accuratezza, l'acume, eccetera, ma per l'operazione che fa. L'operazione che fa è quella di portare l'attenzione del dibattito anglofono, un autore che non è affatto sconosciuto al dibattito anglofono. Non ci mancherebbe Foucault, ormai c'è una Foucault Renaissance, una Foucault Passion, non so come dire. Molti si occupano di Foucault da anni, c'è un'attenzione molto grande per Foucault nel dibattito anglofono. Però, appunto, in qualche caso si vede che il tipo di ricezione è un tipo di ricezione più nell'ambito dei cultural studies, un po' meno di quella che per un certo contesto è la vera filosofia. Cioè, la filosofia del linguaggio, la filosofia analitica e così via. Ma Daniele furbamente, in un senso in modo molto acuto e appropriato, diceva bene signori, ma guardate che alcune delle idee di Foucault, in particolare sul tema della verità, sono leggibili nel contesto di una filosofia del linguaggio, in particolare della filosofia della pragmatica del linguaggio, in particolare con gli strumenti di Austin. E quindi la sua, diciamo, una parte centrale del libro che è molto interessante, dove appunto, dice, quell'idea di Austin del perloputorio ha un ruolo importante per comprendere anche il modo in cui Foucault parla dei regime di verità, contrapposto appunto al tema del semplice gioco di verità. Questa è la prima operazione. La seconda operazione è quella di rivendicare per Foucault un ruolo, un'interpretazione del pensiero di Foucault che appunto non lo rubrica immediatamente fra i postmodernisti, relativisti, nichilisti, eccetera. Perché questa è anche una lettura abbastanza diffusa. Per esempio Stephen Hughes, che legge volentieri le cose di Foucault sul tema del potere, poi però dice sì, ma lui non ha una visione normativa. Ancora di più Nancy Fraser e Abermas hanno accusato Foucault di essere normativamente confuso, questa espressione di Nancy Fraser. Perché secondo me mostra molto bene che c'è una normatività nel discorso di Foucault sull'interpretazione del luogo fontale, originario del potere. Questo luogo originario del potere sta nel soggetto in un modo che non può essere tacciato appunto di relativismo o postmodernismo, anche se non c'è un'idea così forte, cartesiana del soggetto. E questo secondo me è molto impresso. Non dico altro perché appunto questa cosa qui è, lascia dire, meglio la tua mente, più di quanto posso fare io. Quindi ti ascoltiamo, prenditi il tempo che ti serve e poi ci saranno un po' di domande e discussioni. Perfetto, grazie. Mi sentite bene? Sì. Per ora, bene. Ok. Allora, intanto grazie mille dell'invito a Roberto, ad Alessandro. Insomma, mi fa molto piacere essere in questo contesto. Mi dispiace non essere presente di persona, ma spero che ci saranno altre occasioni presto. E mi fa molto piacere parlare di questo libro, parlarne in italiano, che ormai è un contesto per me non così frequente, devo dire. Quindi parlare di questi temi in italiano non è necessariamente la cosa più facile, ma ci proviamo. Se a un certo punto mi viene un'espressione in inglese o in francese, mi perdonerete e mi aiuterete. Allora, Roberto e Alessandro mi hanno chiesto di parlare, magari una mezz'oretta, insomma, introdurre alcuni temi centrali del libro e per poi avere tempo per una discussione. Quindi cercherò di farlo nei prossimi 25-30 minuti. E vorrei partire da, diciamo, da tre punti che sono stati per me anche i punti di partenza, in un certo senso, critici di questo libro. Foucault, specialmente in ambito anglosassone, è tradizionalmente, direi, accusato di tre cose. La prima è di non essere davvero un filosofo critico, e questo si ricollega a quello che Roberto ha appena detto. Insomma, Foucault non ci dà una prospettiva con un fondamento normativo stabile, per esempio. Foucault è accusato di essere un relativista che dice che tutto è potere e di conseguenza non c'è differenza tra il vero e il falso. Quindi Foucault è visto come un pensatore utile per studiare le relazioni di potere, ma viene sempre detto che gli manca qualcosa per essere davvero critico, o davvero un teorico critico. La seconda accusa è, questa un po' più recente, è di essere in un qualche modo il profeta della post-verità, o dei fatti alternativi. Quindi, di essere in fondo o un riduzionista o un eliminativista rispetto alla verità, quindi di dire o che la verità è potere, oppure semplicemente di voler eliminare la verità dal discorso che vuole fare. E la terza accusa è un'accusa che gli viene, da un certo punto di vista, dagli stessi Foucaultiani o da molte persone che sono interessate a Foucault, specialmente a Foucault dagli anni 70, a Foucault come qualcuno che ci dà degli strumenti per analizzare il potere. C'è questa accusa di essere, da un certo punto di vista, di essersi convertito negli ultimi anni a una posizione apolitica. Quindi c'è una sorta di incomprensione di quello che Foucault fa negli anni 80, specie delle sue analisi della parresia. E molti Foucaultiani non sanno bene cosa farne, cosa fare di questa attenzione di Foucault al dir vero, alla parresia, in questi ultimi anni. E da un certo punto di vista il mio libro è un tentativo di rispondere, mettere in contesto queste tre accuse. Non è necessariamente una difesa di Foucault, non mi interessa così tanto, insomma, difendere Foucault oppure no, è piuttosto un tentativo di mostrare che ci sono in Foucault degli elementi interessanti per pensare la critica, per pensare il nostro presente e il modo in cui la verità e il dir vero funzionano nel nostro presente e che le sue analisi della parresia sono in realtà da leggere in maniera in completa continuità con il suo lavoro degli anni 70. Quindi nel libro io cerco in qualche modo di rispondere a queste obiezioni, a questi dubbi, e propongo una lettura di Foucault in chiave di un progetto che a mio avviso caratterizza gli anni 70 e gli anni 80 fino alla sua morte, che è quello di una genealogia dei regimi di verità. E nel libro in particolare mi soffermo su tre regimi di verità che sono, credo, i più rilevanti secondo Foucault nel presente, il regime di verità scientifico, il regime di verità confessionale e il regime di verità critico, mostrando come il percorso di Foucault negli anni 70 e 80 può essere riletto alla luce di questo progetto. Potrei aggiungere, avrei potuto aggiungere anche il regime di verità economico, forse del liberalismo e neoliberalismo, ma non volevo andare a parare in un altro contesto che è comunque abbastanza spinoso per i Foucaultiani e gli anti-Foucaultiani, ma se volete ne possiamo parlare. Per me il tratto distintivo del lavoro di Foucault degli anni 70 e 80 è quello di aver proposto una storia politica della verità che contesta le concezioni, le differenti concezioni platoniche e platoneggianti della verità con la V maiuscola, ma che non sfocia nel riduzionismo o nel relativismo di cui Foucault è accusato. Al contrario, la mia idea nella mia lettura è che Foucault vuole mostrare il valore etico-politico della verità e delle pratiche del dir vero all'interno di un progetto che, a mio avviso, permette di ripensare la sua pratica non solo della genealogia, ma anche della critica. Ora, nel modo in cui penso il libro ora, anche se il libro l'ho scritto qualche anno fa, insomma, e quindi c'è sempre questa sorta di effetto di ritorno al futuro quando un libro è infine pubblicato, il libro, per come lo vedo adesso, ha tre nuclei principali. Quindi, il primo, che più o meno corrisponde ai primi due capitoli, difende la tesi secondo la quale la genealogia in Foucault mira a interrogare il legame tra i giochi di verità e i regimi di verità. Il donc, in francese, il quindi, che lega l'affermazione questo è vero, all'affermazione e quindi mi sottometto alla verità e agisco di conseguenza. Il secondo nucleo del libro, i capitoli tre e quattro, si concentra sulla parresia, che ridefinisco attraverso Austin e Cavell come una famiglia di speech acts che agiscono a livello perlocutorio e che permettono quindi a Foucault di esplorare il rapporto etico-politico e non solo epistemico, che gli individui hanno con la verità. E tornerò su questi, insomma, sui tre nuclei un po' più nei dettagli. Ma qui, rispetto al secondo nucleo, una cosa che tengo a dire subito è che mi sembra che una delle confusioni nell'interpretazione di Foucault sia creata dal fatto che in Foucault, paradossalmente, da un certo punto di vista, pratiche del dir vero possono giocare un ruolo da una parte assoggettante, dall'altra critico. E questo si vede, diciamo, nella tensione o nella differenza tra le analisi che Foucault fa della confessione, quindi un dir vero che assoggetta, e nelle sue analisi della parresia. Un dir vero che invece nella mia lettura è una forma, è un modo della critica, anche se non voglio proporre che sia per Foucault un modello della critica o il solo modo in cui la critica può funzionare. Il terzo nucleo del libro, che corrisponde all'ultimo capitolo, al quinto capitolo, si concentra invece sulla genealogia come una pratica in Foucault, che non è solo genealogia come una pratica critica, ma anche una genealogia della critica stessa, e in quanto tale possiede una dimensione che chiamo possibilizzante. La mia idea è che la genealogia in Foucault mostra concretamente modi in cui individui e gruppi di individui nel passato hanno lottato contro un certo meccanismo di potere sapere per costruire un noi come un soggetto critico. e in questo dirò qualcosa di più dopo, ma mi farebbe già piacere, insomma, accennare qui che mi sembra che ci sia un possibile campo di discussione con il lavoro che Roberto fa sulla dimensione utopica della critica. Non penso che la possibilizzazione sia esattamente la stessa cosa, ma da un certo punto di vista mi sembra che il mio tentativo di leggere questa dimensione nella genealogia di Foucault risponda in un qualche modo alla stessa domanda che Roberto fa nel suo libro, cioè quella di cercare un modo per la critica di non essere solo decostruttiva al contempo di non cercare soltanto dei fondamenti normativi fissi, ma di aprire a un futuro, a una costruzione futura di un orizzonte che Roberto definisce nei termini dell'utopia, io definisco nei termini dell'apertura di possibilità e della costruzione di un noi. Ok, velocemente vorrei quindi tornare su ciascuno di questi tre punti per dire qualcosa di più e poi mi fermo, così ne possiamo parlare. quindi il primo nucleo del libro ha a che fare con diciamo la tesi principale che difendo è che in Foucault c'è una distinzione tra giochi e regimi di verità. I giochi di verità sono definiti come diciamo un insieme di regole per la produzione di enunciati veri e all'interno di un gioco di verità Foucault sembra dire che il vero e la verità ha un'autonomia almeno relativa. lui lo pone nel in du gouvernement des vivants come la verità è indexui una volta che hai stabilito una serie di regole all'interno di un gioco di verità il vero e il falso sono distinguibili in maniera Foucault dice autonoma da un certo punto di vista il potere non gioca qui. al contempo però Foucault vuole anche dire d'accordo ci sono diversi giochi di verità ma ogni gioco di verità è legato necessariamente a un regime e quel necessariamente per Foucault io lo interpreto solo come un visto che ci sono delle persone che giocano questi giochi di verità necessariamente il passaggio dallo stabilire la verità di un enunciato al dare alla verità di un enunciato una certa forza è un passaggio che secondo Foucault non si può spiegare attraverso le regole del gioco ma va spiegato a livello del regime e nel libro cerco di diciamo spiegare questo tipo di differenza facendo una differenza tra quello che chiamo epistemic acceptance of the truth quindi non lo so accettazione epistemica della verità da una parte e practical submission to the truth dall'altra sottomissione pratica alla verità e la mia idea qui è che il target della genealogia per come Foucault pratica nella parte matura della sua vita è precisamente il legame tra queste due dimensioni tra la dimensione del gioco di verità in cui la verità ha una certa autonomia una volta che le regole sono stabilite e la forza che viene data alla verità di avere una delle conseguenze sulla nostra condotta che secondo Foucault non può essere spiegata soltanto a partire dalle regole formali di un gioco di verità questo per me ha una grande importanza specialmente per diciamo capire perché un certo tipo di atteggiamento critico rispetto agli alternative facts oggi specialmente il fact checking non abbia la forza critica che vorremmo dargli in un certo senso leggo Foucault come qualcuno che ci dice che i fatti e la verità non hanno in se stessi alcuna forza critica la forza critica la forza etico-politica della verità non può essere una questione solo epistemica o solo fattuale è una questione politica è una questione è qualcosa che fa aggiunto alla verità in quanto tale e mi sembra che vedendo un po' quello che è successo in questi ultimi anni questo sia abbastanza insomma un'intuizione che mi sembra abbastanza condivisibile fra l'altro se conoscete il lavoro di Linda Zerilli che lavora all'università di Chicago lei sta per pubblicare un libro sulla democrazia e la post-verità in cui insomma utilizza e lavora su queste stesse intuizioni ok secondo nucleo mi si potrebbe dire a questo punto se la verità e la forza della verità è una questione etico-politica non solo epistemica potremmo dire che è un problema soltanto di retorica è solo un problema insomma si torna a una forma di riduzionismo da un certo punto di vista e la mia risposta è da un certo punto di vista sì e no mi sembra che questa distinzione tra giochi e regimi di verità permetta di evitare il riduzionismo naif nel senso che Foucault almeno teoricamente traccia una distinzione tra i due campi ma al contempo mi sembra che diciamo ci sia qualcosa di più da fare un'operazione ulteriore da fare che io faccio attraverso la nozione di perlocutorio di Ostin nel mio lavoro la dimensione perlocutoria cioè quello che facciamo con le parole non in maniera illocutoria ma gli effetti che creiamo con le parole che non sono diciamo contenuti convenzionalmente in quello che si dice quindi per esempio se io dico prometto che parteciperò al seminario del laboratorio di teoria critica e c'è una forza illocutoria di quello che dico che è all'interno della promessa stessa e c'è una forza perlocutoria di quello che dico perché per esempio promettendo potrei convincere un mio amico a partecipare a quella sessione perché vuole sentirmi parlare di Foucault quindi la promessa in quanto tale è l'aspetto illocutorio gli effetti ulteriori che posso produrre sui miei ascoltatori come quelli di convincerli persuaderli dissuaderli eccetera eccetera è l'aspetto perlocutorio questo questo aspetto è un aspetto che la filosofia del linguaggio ha trattato più raramente dell'illocutorio perché è più difficile da sistematizzare e uno dei filosofi che se ne è occupato di più è Stanley Cavell ed è ispirandomi al suo lavoro su quello che chiama passionate utterance enunciati passionali che nel terzo e quarto capitolo del libro cerco di leggere la parresia in Foucault come una famiglia di Spi Chucks che i cui effetti sono in particolare perlocutori quindi insomma nel libro cerco di sistematizzare dicendo facendo una serie di considerazioni su sette condizioni necessarie per un enunciato al che al fine di un enunciato per essere paresiastico la non unpredictability come come si dice l'impossibilità di prevedere gli effetti dell'enunciato la libertà del dell'ocutore la critica dell'interlocutore il rischio indeterminato che viene preso il coraggio un certo tipo di trasparenza diciamo c'è questa idea di dire quello che si pensa e una certa irruzione della verità come una forza etico-politica adesso non voglio andare nei dettagli di questo perché la cosa che mi interessa di più qui in realtà è che la mia tesi è che la parresia per Foucault letta attraverso Austin è un modo di esercitare la critica attraverso il dir vero dove il punto di questo dir vero non è solo epistemico nel libro quindi cerco di andare in qualche modo oltre Foucault e di presentare la parresia non solo come un'attività storicamente situata ma come una forma della critica che alla fine della vita della sua vita Foucault della quale Foucault comincia a interessarsi alla fine della sua vita quando si riferisce al suo progetto come un progetto non solo di genealogia come critica ma della genealogia della critica e la parresia pur non essendo il modello della critica secondo Foucault è una modalità in cui la critica è stata pensata concepita nelle nostre società e questo mi dà la connessione al terzo e ultimo nucleo del libro questa idea della genealogia non solo come critica ma anche della genealogia della critica e di quello che apre per un pensiero critico oggi nella letteratura sulla genealogia di solito la genealogia in Foucault viene presentata o in continuità con Nice come una pratica sovversiva quello che la genealogia fa è mostrare l'origine contingente violenta di pratiche che ci sembrano necessarie o come una pratica problematizzante in particolare Koopman e Allen parlano di questo tema della genealogia come metodo di problematizzazione in Foucault e intendono con questo termine che quello che la genealogia fa in Foucault è mostrare l'origine di un certo concetto o di una certa pratica in una problematizzazione e quindi la possibilità di far diventare una pratica un concetto che oggi ci sembrano andare da sé problematici ancora una volta ora il problema che queste due interpretazioni della genealogia in Foucault mi pongono è che presentano la genealogia sempre come una pratica preparatoria alla critica nel senso che in entrambi i casi sembra che la genealogia non faccia molto altro se non instillare nel lettore un certo tipo di dubbio un certo tipo di inquietudine una anxiety come Amia Srinvasan dice sul fatto che i concetti le pratiche le cose che facciamo hanno un'origine diversa da quello che pensiamo e la mia idea è che la genealogia in Foucault possa fare qualcosa di più di questo e nel libro cerco di sostenere che quello che fa in più di questo è possibilizzare e per possibilizzare intendo non solo aprire un campo di possibilità nuove ma materialmente creare una sorta di framework normativo attraverso il quale il lettore può prendere posizione rispetto all'oggetto al target della genealogia stessa il modo in cui la genealogia fa questo in Foucault è attraverso un focus sui momenti di resistenza effettivi nel passato e nel presente per mostrare che i meccanismi di potere sapere la prigione i modi in cui la sessualità è pensata medicalizzata eccetera eccetera quindi i meccanismi di sapere potere sono sempre sottoposti a contestazione e si trasformano di conseguenza quindi quello che nella mia lettura la genealogia in Foucault cerca di mostrare è che da un certo punto di vista c'è un primato della critica o della resistenza rispetto al potere Foucault è spesso pensato come un filosofo del potere io tendo a pensarlo come un filosofo della resistenza perché perché la genealogia per lui parte da pratiche di resistenza attuali che esistono nel presente e si concentra sempre su momenti in cui individui e gruppi nel passato hanno posto una resistenza a queste pratiche quindi qui la possibilità della trasformazione o l'apertura di possibilità non è solo astratta ma da un certo punto di vista è reale è ancorata in una tradizione di lotte e il motore della genealogia è proprio questo ancorarla a una tradizione a una storia di lotte e di resistenze e creare in questo modo una sorta di soggetto collettivo una sorta di noi come un soggetto critico delle lotte che unisce passato e presente e che dota nella mia lettura la genealogia di Foucault di una forza normativa che non è prescrittiva perché Foucault è molto chiaro nel dire il lettore resta libero di diciamo scegliere se impegnarsi o se fare di queste lotte le sue lotte quindi non si tratta di prescrivere qualche cosa non si tratta di creare o di enumerare una serie di fondamenti normativi per la critica ma si tratta di dotare la pratica genealogica di una forza normativa che a mio avviso si esercita in maniera perlocutoria inserendosi in una situazione presente per cercare di produrre nel presente effetti di resistenza da questo punto di vista la genealogia come pratica critica in Foucault ha a mio avviso come scopo quello di intensificare le resistenze in un modo che tendo a pensarla diciamo come una come una pratica militante che si che si situa insieme accanto ad altre pratiche che non vuole fare la legge alle altre pratiche ma che da un certo punto di vista vuole derivare la propria forza e la propria ragion d'essere dalle lotte e dai movimenti e dagli attori sociali che esistono già e da questo punto di vista il lavoro di qualcuno come Robin Selicates a Berlino che usa Foucault ma che usa anche che è più diciamo tradizionalmente qualcuno che lavora nella teoria critica mi sembra andare in questo senso è possibile pensare una forma di teoria critica che deriva la propria forza normativa da un certo punto di vista dalla normatività delle pratiche di lotta stesse e è un po' in questa direzione che cerco di leggere quello che Foucault fa e che dunque concludo questo libro cercando di legare un pochino tutte le diverse dimensioni di cui ho parlato credo che sia arrivato i 30 minuti spero che abbiate comunque sfogliato il libro o dato un'occhiata non sono sicuro che in 30 minuti non sono sicuro in 30 minuti di essere riuscito a darvi un'idea precisa di tutto quello che cerco di fare nel libro ma sono felice di parlarne e di discuterne con voi ottimo grazie grazie Daniele io ho girato il computer sono qua di fianco non mi vedi ma ma apposto ho girato il computer e così apriamo una discussione con tutti i presenti io appunto sto in buon ordine trattenuto finché riesco poi a un certo punto esplodo però grazie di questa sintesi molto efficace vediamo chi vuol cominciare anche di chi è collegato eh inizi tu Raffaele eh sì direi Raffaele Ariano vediamo se riesco a inquadrarlo un po' abbiamo esperti cavelliani eccoci qua allora piacere di conoscerti grazie grazie per la presentazione e devo dire non ho ancora letto il libro vorrei anche recensirlo tra qualche settimana per cui lo leggerò di sicuro ma quindi solo a partire dalla tua presentazione ti dico che la prospettiva che presenti mi convince moltissimo e mi piace quindi innanzitutto grazie volevo chiederti così per parlare due cose una un po' una curiosità forse banale un po' più storiografica cioè volevo chiederti se in questo parallelismo che tu nel libro tracci non so appunto cosa dici quindi perdonami se magari ti faccio dire cose che sono già scritte e chiarite questo parallelismo questa possibilità di usare insieme Foucault e Austin tu la veda solo come una cosa come un'operazione teorica che a posteriori fai tu che si può fare o se c'è anche un addentellato storico perché la mia impressione è che alcune di queste cose Foucault le avesse anche lette all'epoca poi ne fosse influenzato più o meno però l'archeologia del sapere la scrive facendo riferimenti a cose che suonano bitkensteiniane non era ancora uscita la traduzione francese di come fare cose con le parole ma c'era già in inglese nell'intervista del 76 lui dice faccio quello che fanno gli analisti inglesi cioè è chiaro che lui li citi secondo te quindi hanno avuto anche un ruolo nel portarlo a pensare certe cose o no questo per inciso ci direbbe che Foucault li leggeva e che erano invece gli anglosassoni che leggevano solo se stessi come al solito e fino a che non è arrivato i camelli morti altri leggevano solo se stessi quindi questa è la prima domanda che volevo porti poi mi piacerebbe chiederti un po' se dal punto di vista diciamo di un esempio dell'attualità a cui accennavi prima parlando del fact checking come penseresti di tradurre la distinzione che facevi quando dicevi secondo me benissimo Foucault dice che all'analisi della verità non basta fare critica politica quel di più strategico non so se leggemonia gramsciana c'entri ma come lo vedi e come lo applicheresti a un caso di oggi come esempio comunque grazie ottimo bellissimo grazie mille sono due domande molto importanti la prima è quella semplice la seconda è quella difficile quindi parto da quella semplice Foucault va a Tunisi per insegnare la filosofia tra il 66 e il 68 e a Tunisi la persona che lo invita e uno dei suoi colleghi è Gérard Deledal che era uno dei pochissimi francesi all'epoca che leggeva la filosofia analitica e Foucault a Tunisi lavora nella sua biblioteca e quindi adesso sappiamo perché abbiamo le fiche de lecture e gli appunti di Foucault che in quegli anni Foucault anni appunto di preparazione di quello che diventerà l'archeologia del sapere legge Wittgenstein legge Searle legge Austin legge chi altro Ryle insomma ci sono centinaia di pagine di Foucault sugli speech acts sulla forza per formativa sulla pragmatica quindi assolutamente l'idea di un Foucault diciamo ignorante di questi dibattiti è da escludere Foucault legge questi dibattiti soprattutto e specialmente in quei due anni tra il 66 e il 68 non sono sicuro che ritorni mai alla lettura di questi autori negli anni 70 ma nell'83 quando cerca di definire la parresia fa un confronto tra parresia e enunciato per formativo e quindi lì è chiaro che Foucault stesso da un certo punto di vista ripesca nella sua memoria questa idea di ah ma forse ha un senso pensare alla parresia facendo un legame con la pragmatica quindi anche se nel libro l'operazione che faccio non è necessariamente storica non penso che sia che sia campata in aria non penso che sia un modo di sovrapporre a Foucault delle cose che Foucault non sapeva o non poteva sapere o non stava pensando è un modo sicuramente per andare al di là di Foucault nel senso che Foucault non parla mai per esempio di perlocutorio ma da molti punti di vista cerco di spiegare nel libro che le sue analisi della parresia in molti punti Foucault fa delle affermazioni che sono molto simili a quelle che Cavell fa parlando del perlocutorio quindi anche se Foucault non usa il termine mi sembrava mi sembra una lettura fair di quello che sta cercando di fare la seconda domanda più difficile ma super interessante un esempio che ho preso con una collega Martina Tazzioli che adesso insegna a Bologna in un paper che abbiamo scritto qualche anno fa è l'esempio del modo in cui per tanto tempo e a fasi alterne diciamo i maggiori quotidiani telegiornali del nostro paese riportassero numeri e fatti sulle morti dei migranti nel Mediterraneo e che questo diciamo la il il fatto o i fatti o le verità che che erano riportate che sono ancora riportate ogni volta che accade una tragedia nel Mediterraneo venissero lette in maniera completamente diversa e possedessero una forza completamente diversa a seconda del campo politico in cui qualcuno è quindi uno uno le può leggere come un diciamo un un'ulteriore spinta a fare delle manifestazioni a cercare di portare pressione sul sul governo sulle ONG per intervenire per fare qualche cosa altri le leggono o l'effetto di questi fatti sul discorso politico è oddio c'è 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 questa cioè rischiamo di essere invasi meglio che non non tutti arrivino qui eccetera eccetera e questo era per dire era per dire da un certo punto di vista che i fatti in quanto tali o le verità che vengono presentate se pensiamo che possano essere diciamo che abbiano una forza politica incontrovertibile e che vada in una sola direzione mi sembra che diciamo sia sia l'approccio sbagliato un fatto non è critico in sé è critico se gli viene data una certa forza e si viene inserito in un certo discorso se viene usato all'interno di una certa tattica strategia eccetera eccetera e in questo mi ricollego con il fact checking insomma l'idea di fact checking trump abbiamo visto che non serve a niente quelli che sono contro trump si appellano al fact checking per dire dice delle cose che non sono vere ma il fact checking non 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 convince quello che vota trump di non votare trump e quindi da questo punto di vista non è che sto dicendo che o non voglio dire o i fatti non sono importanti la verità non non è importante e non penso che sia la conclusione di foucault il punto è se pensiamo che quello sia il modo di fare critica ci stiamo sbagliando cioè quello può essere una cosa interessante che è importante fare è importante stabilire quali sono i fatti è importante diciamo se giochiamo un gioco di verità fattuale è importante dire quali sono le cose vere quali sono le cose false ma la forza che viene data a questi fatti a questa verità è un problema politico che si gioca su un altro campo non so se è di aiuto o se chiarisce un po' di più la posizione chiarissimo grazie Giuseppe eccomi grazie mille intanto grazie ciao allora io non ho ancora letto il libro però lo leggerò a brevissimo però grazie mille perché è veramente molto interessante io anche ho due domande diciamo una legata più all'opera di Foucault per come poi viene ricostruita ed è abbastanza così tranchante cioè che rapporto c'è sulla base di questa lettura tra la parresia e un concetto come quello di archivio cioè in che relazione entrano nella misura in cui l'archivio si configura dice Foucault come la legge di ciò che può essere detto io mi devo immaginare che l'espressione del parresia asta è un'espressione inarchiviabile per usare un'espressione alla derrida però volevo capire perché secondo me in realtà questa diventa veramente poi una forte carica normativa oltre che performativa dell'espressione del parresia asta questa quindi diciamo è la prima la seconda è anche qui cerco di farla molto tranciante ma perché tutto questo non lo chiamiamo critica dell'ideologia è una provocazione però in fin dei conti l'idea è proprio quella che non è semplicemente opporre a un soprattutto in una fase diciamo così in cui anche la teoria critica più tedesca e francofortese ortodossa si sta muovendo verso una idea dell'ideologia che non è più semplicemente come dicevi peraltro all'inizio epistemica falsa coscienza ma c'è una concezione pratica dell'ideologia strutture di senso dotate di performatività che mi fanno agire in un certo modo e quindi a questo punto io dico effettivamente Foucault non usa praticamente mai il termine ideologia perché è troppo legato a una determinata tradizione eccetera però se noi riorientiamo in questi termini il dibattito sulla critica dell'ideologia possiamo parlare di critica dell'ideologia da un punto di vista foucaultiano queste due ottimo sono due bellissime domande allora vediamo se riesco a dire delle cose sensate la prima il rapporto tra la parresia e l'archivio dunque avrei tendenza è la prima volta che mi viene fatta questa domanda insomma quindi è molto interessante partiamo dal punto che io personalmente sono qualcuno che legge foucault come qualcuno che ha praticato l'archeologia e la genealogia da un certo punto di vista durante tutta la sua vita negli anni sessanta ancora non parlava di genealogia ma ci sono degli indizi per mostrare che già nella nella storia della follia insomma fa delle operazioni genealogiche e fino alla fine della sua vita continua a dire che l'archeologia è diciamo è sempre stato il modello il metodo che lui usa e la genealogia è da un certo punto di vista lo scopo quindi la domanda mi sembra legittima e mi sentirei di dire che però la parola del parresiaste almeno da come la leggo io non è necessariamente una parola che cioè i limiti posti i limiti del del dicibile posti da un certo archivio dal mio punto di vista funzionano anche con la parola del parresiasta quello che il parresiasta è in grado di fare direi io non Foucault è di giocare con le regole i limiti imposti dall'archivio in modo da creare delle fratture all'interno di quello che è dicibile e intellegibile perché il punto è il parresiasta non è qualcuno che parla in maniera inintelligibile agli altri il critico è qualcuno che deve essere intelligibile ma che è in grado di creare di mostrare delle fratture che il suo che quelli che lo ascoltano non sono forse in grado di vedere e mi sembra che in questo ci sia un diciamo un punto una linea rossa che lega tutto il lavoro di Foucault dagli anni 70 dagli anni 60 agli anni 80 che è questo discorso di muoversi sempre sui limiti quindi chiaramente la sua analisi dell'archivio ha tendenza a mostrarci un certo tipo di ordine nel discorso di quello che si dice ma come Foucault dice sempre di più alla fine della sua vita l'esistenza di un ordine discorsivo non significa che non ci può essere inventività all'interno di quell'ordine significa che l'inventività deve essere giocata nei limiti di quello che l'archivio ti permette di fare ma è chiaro che se non ci fosse inventività sarebbe anche impossibile spiegare il modo in cui un archivio può trasformarsi in un altro quindi mi verrebbe da dire la parola del parresiasta è archiviabile da un certo punto di vista e c'è anche un rischio in questo quando Foucault dice che la parresia è una parte della sua genealogia della critica quello che Foucault vuole anche dire è che la critica stessa deve cioè può essere soggetta alla critica ci può essere una critica della critica e l'idea è che diciamo posizioni critiche in un certo contesto possono sempre essere riprese e non essere più posizioni critiche in un contesto differente quindi la critica per Foucault è sempre un problema strategico per l'ocutorio di trovare le fratture le fallie le cose giuste da dire nella situazione per creare per cercare di creare gli effetti che il critico vuole pur senza avere nessun tipo di assicurazione che questi effetti saranno effettivamente creati sulla critica dell'ideologia c'è una risposta semplice e una risposta complessa la risposta semplice è sono d'accordo con te e con quello che dici per esempio nel modo in cui Selicates ridefinisce l'ideologia oggi mi sembra che ci sia forte compatibilità con quello che Foucault fa e lui è il primo a dirlo quindi la risposta semplice è bisogna intendersi quello che vogliamo dire per ideologia se ridefiniamo l'ideologia in un modo che la avvicina alla genealogia allora sì possiamo dire che c'è una critica genealogico ideologica che può recuperare Foucault anche forse per criticare una certa accezione dell'ideologia più tradizionale ovviamente la risposta più complessa sarebbe quella di andare a vedere il modo in cui Foucault ha criticato l'ideologia nei suoi lavori specialmente all'inizio degli anni 70 in dialogo con Althusser e nell'80 nello stesso corso in cui fa questa differenza tra giochi e regimi di verità e forse questo tipo di analisi ci porterebbe a dire Foucault ha sempre preso l'ideologia come un target critico perché ha sempre pensato l'ideologia in termini tradizionali come falsa coscienza e se l'ideologia è definita come falsa coscienza allora diciamo sappiamo perché il tipo di operazione che Foucault fa è molto diverso opposta da questa ma è chiaro che se ridefiniamo l'ideologia piuttosto a partire dalle pratiche come mi sembra sia una delle cose interessanti che sta succedendo in questi ultimi anni allora mi sembra possibile mettere insieme o comunque diciamo creare le condizioni per un dialogo tra queste due tra queste due forme di critica non sono sicuro non ho lavorato su questo ancora in maniera esplicita quindi non mi avventurerei nel dire esattamente la stessa cosa penso che forse ci siano ancora delle differenze da fare ma sicuramente un dialogo diventa possibile grazie mille grazie a te Lorenza se è visibile sì intanto ringrazio per l'introduzione a questo libro che è stata molto interessante che vorrei leggere e come spoiler chiederei se è possibile un approfondimento su una questione che è proprio liminale ma che è centra liminale rispetto a quanto si è detto in questa mezz'ora penso che sia del tutto normale tenere fuori qualcosa ma meno liminale nel discorso di Foucault perché tutta la questione della verità si lega incendibilmente all'interno dell'orizzonte della storia della sessualità con la questione del corpo il vero index sui della verità è proprio il corpo per esempio del parresiaste ma anche di colui che sceglie la forma della confessione perché che cosa è che certifica e testimonia che stia dicendo la verità o che stia esprimendo una verità è proprio il suo corpo che è poi quello sottoposto ai regimi di penitenza o che viene poi trattato dal punto di vista della virginità nelle confessioni e tutte quelle pratiche le pratiche all'interno del matrimonio quindi questo corpo che richiama comunque una verità sempre espressa in senso politico da un certo punto di vista appunto è eminentemente politica perché il mio corpo è quello che si mette in uno spazio che è condiviso e d'altra parte è anche assolutamente autoriferita perché è sempre comunque il mio corpo e sono io sola che posso testimoniare la mia verità dovendola però tradurre in un contesto condiviso in che modo questa questione si gioca all'interno di questo tipo di parola e di atto di parola grazie mille grazie no è una è una questione cruciale come dici tu e da molti punti di vista mi mi dispiace di non averla trattata di più nel libro la tratto un pochino nel capitolo 4 specialmente quando cerco di domandare o di prendere il tipo di parresia che Foucault analizza quando parla dei cinici e di domandare in che senso diciamo questa diciamo la dimensione corporea della parresia alla quale Foucault chiaramente tiene molto può essere inserita all'interno del discorso che faccio nel libro in quanto tale e la mia risposta è ancora una volta una risposta molto cioè al contempo Foucaultiana e Cavelliana perché una delle intuizioni che mi piace di più in Cavell e nel lavoro che Cavell fa sul perlocutorio è proprio quella di dire da un certo punto di vista il perlocutorio è una dimensione che è legata al linguaggio ma non ma non necessita la parola per essere fatta diciamo alcuni atti alcune conseguenze perlocutorie come quella di spaventare qualcuno per esempio può essere fatta con dei con dei gesti può essere fatta con con un'espressione può essere può essere una cosa che passa dal corpo senza necessità di passare dalla parola detta questo non significa che non abbiamo bisogno di un certo una certa forma di linguaggio condiviso o di diciamo contesto di segni che sia condiviso che faccia sì che il mio comportamento sia leggibile da parte dell'altro ma a mio avviso diciamo questa dimensione del questa dimensione del corpo che è così importante per Foucault negli anni settanta e negli anni ottanta può essere recuperata attraverso precisamente questa dimensione o questa attenzione al perlocutorio come la come gli effetti che creiamo attraverso l'inserzione di una certa forma di verità che può essere qualcosa che facciamo con le parole o qualcosa che come i cinici fanno secondo Foucault può anche essere fatta semplicemente con un certo tipo di gesto atteggiamento presenza del corpo all'interno di un certo tipo di spazio pubblico e questa è una questione che è importante per me anche per quello che ho detto a proposito della creazione del noi critico perché il noi critico della genealogia in Foucault passa attraverso delle resistenze che spesso sono corporee prima che diciamo esplicitate quindi quando quando Foucault in l'epoporps psychiatrique parla della della rivolta delle isteriche per esempio oppure quando parla della della convulsione in le sanormo quando parla di Herculein Barbant sono tutte forme di diciamo resistenza o lotta contro un certo modo una certa presa del potere sul corpo che non passano necessariamente per le parole di un parresiasta appunto o una forma di critica più elevata e più esplicita ma che passano per diciamo una 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 sorta di resistenza quasi automatica del corpo alla presa del potere in quanto tale e questo secondo me è molto importante per capire appunto questo questa creazione di un framework normativo di un noi critico che non è solo il noi critico creato dal dall'eroico parresiasta che dice il vero insomma e che secondo me Foucault a un certo punto è un po' affascinato da questa idea ma mi sembra che alla fine riesca a svincolarsene ma che è un noi critico che è creato da una massa di corpi che sono investiti da un certo tipo di potere sapere e che a un certo punto trovano questo investimento intollerabile e quindi diciamo reagiscono o creano le condizioni per una pratica di resistenza quindi domanda bellissima dimensione fondamentale nella mia nella mia ricostruzione il corpo entra in questo modo penso ci sia molto di più da dire sul corpo in Foucault ok dire un po' computer così ti fa la domanda Alfredo Gatto buongiorno grazie per grazie per l'intervento e grazie anche per il libro che ho letto devo dire la verità con grande piacere un testo eccellente io avevo una piccola domanda in verità non so se sarà bellissima non penso ma sarà diciamo così molto più limitata nello specifico cioè ad un certo punto prima si dicevi parlavi degli effetti che la critica vuole la domanda è poi proprio un attimo a spiegarmi gli effetti che la critica vuole sono anche effetti di verità mi spiego non voglio fare semplicemente quel tipo di critica che viene mossa a Foucault sulla scorda di un suo presupposto relativistico per cui lui deve assumere quel tipo di verità no non in questi termini ma pensavo non ricordo più adesso se nel tuo libro citavi una monografia che secondo me è un testo veramente interessante di Redaelli si chiama che si chiama l'incanto del dispositivo che è un testo scritto nel 2011 che si soffermava su questo aspetto sul doppio fondo diciamo così della pratica critico-generalogica ed è un tema che è tornato anche nella biografia fucoltiana anche per esempio Rovatti in un testo non proprio eccezionale pubblicato ma proprio di Feltrinelli parlava dell'oscillazione tra una verità regime e un dire la verità del paresiasta e in che senso cioè l'esercizio critico è una modalità di disassoggettamento come viene spesso intesa bene e questo non c'è alcun dubbio ma l'esercizio critico come modalità di disassoggettamento è di per sé stesso anche che una forma di assoggettamento cioè la soggettivazione è una nuova modalità per assoggettare tra virgolette ora si tratta di e questa è una domanda e la seconda è si tratta di capire se Foucault fosse in qualche modo consapevole di questo possibile cortocircuito doppio fondo oscillazione e non come dire non lo portasse alle estreme conseguenze o se la dimensione in qualche modo assoggettante del dire comunque la verità del paresiasta fosse qualcosa che gli sfuggiva cioè l'attività critica comunque esercita un potere e deve farsene carico e rivendicarlo o deve semplicemente operare uno spostamento ma se operare uno spostamento non rischia di essere l'esercizio critico sterile proprio perché rifiuta la propria modalità di disassoggettivare una forza di ri-assoggettivare cioè ri-ordinare il mondo in qualche modo non so se mi sono spiegato e volevo sapere qual era l'opinione penso di sì è una è una domanda molto bella e la mia risposta è credo che Foucault fosse cosciente di questo e il modo in cui il modo in cui in due o tre punti alla fine della sua vita parla presenta la parresia come un capitolo della genealogia della critica io lo leggo precisamente in questa chiave cioè la genealogia la genealogia della critica è per Foucault anche un modo di dire attenzione guardate che la critica stessa è un regime di verità la critica stessa crea e produce degli enunciati delle regole un legame tra la verità che enuncia e la condotta che si aspetta che l'ascoltatore tenga e di conseguenza il modo in cui leggo questo è che per Foucault la genealogia della critica non è solo una genealogia che Foucault fa per come si dice in inglese vindicate per giustificare la critica in tutte le sue forme è anche una genealogia che fa per dire in un certo senso attenzione la critica stessa deve essere sottoposta a genealogia perché una volta che il regime di verità di una certa forma di critica diventa fisso può diventare un rischio può essere diciamo dal mio punto di vista la mia lettura di Foucault è che se c'è un postulato che Foucault diciamo ha sempre avuto è quello che è pericoloso è la fissità è la fissità delle relazioni è la fissità dei rapporti di potere è la fissità di un certo regime di verità e di conseguenza la lettura che do di questa idea della genealogia della critica è precisamente un modo per Foucault al contempo di dare la critica una forza normativa ma anche sottoporre la critica stessa e le differenti forme di critica a una critica o comunque all'idea di attenzione se pensiamo che la parresia per come la praticava Socrate è sia il modello di critica che va seguito senza diciamo metterlo in dubbio eccetera eccetera possiamo potremmo trovarci in difficoltà e questa è una cosa che leggo soprattutto alla fine della sua vita in Le Courage della Verité quando Foucault analizza gli atteggiamenti di Diogene il cinico e ci sono questi passaggi molto interessanti in cui Foucault sembra particolarmente interessato e affascinato dai momenti in cui Diogene sembra catturare l'attenzione del pubblico il pubblico sembra essere convinto da quello che Diogene dice e a quel punto fa un gesto scandaloso per rompere diciamo il modo in cui il pubblico lo segue è chiaro che si tratta di una una forma di critica che uno potrebbe dire è sterile è iperbolica e tutto quello che vuoi ma la leggo soprattutto come un modo di Foucault di diciamo suggerire che bisogna sempre stare attenti anche al modo anche alle verità prodotte dalla critica stessa in modo da non trasformarle in queste verità fisse insomma che che diventerebbero dei postulati da seguire no no matter what se posso solamente a margine trovo questa risposta molto efficace avevo posto la domanda viene in mente un passaggio di quella conferenza che scese la critica del 78 mi sembra poi tradotta in italiano con illuminismo e critica in cui a un certo punto nelle battute iniziali Foucault dice la critica intende mettere ordine senza dettare legge qualcosa di simile più o meno lo sto citando e quindi mi aveva sempre colpito questo passaggio perché in fondo se la critica mette ordine detta legge cioè detta legge proprio in quanto mette ordine dunque detta una legge che è la propria e però appunto rispetto a queste ultime considerazioni che facevi si potrebbe pensare a costruire una genealogia della genealogia critica di Foucault cioè il fatto che in quel momento non fosse ancora pienamente consapevole della capacità di soggettivazione assoggettante che l'esercizio di liberazione della critica impone cioè che ci fosse uno sviluppo interno al suo stesso percorso chiedo probabilmente sì penso che sia un'idea interessante e il 78 insomma quei primi mesi del 78 è un momento molto interessante per Foucault io lo considero diciamo il momento cardine per per l'inizio di tutto quello che Foucault farà dal 78 all'84 insomma è il momento in cui Foucault torna a Kant è il momento in cui Foucault torna a pensare che cresca le lumières di Kant che non lo abbandonerà più insomma fino alla fine della sua vita e mi sembra che questo discorso di dire la critica è un modo di mettere ordine ma non di dettare legge io lo interpreto in Foucault come un modo di dire necessariamente se un discorso vuole essere intelligibile deve diciamo rispondere a certe regole deve essere un discorso che produce degli effetti di verità deve essere un discorso che si inserisce all'interno di un certo tipo di ordine e la critica a mio avviso secondo Foucault deve fare questo non è solo decostruzione non è solo disassoggettamento deve creare una forma di soggettivazione diversa ma al contempo mi sembra che ci sia sempre quest'altro movimento in Foucault che ci dice soggettivazione critica molto bene ma c'è sempre ma c'è sempre il rischio che il potere che i rapporti di potere nella loro creatività e inventività arrivino a ripescare quella forma di soggettivazione renderla assoggettante in un modo che richiederà un'altra forma di critica per criticare l'assoggettamento creato da insomma mi sembra che Foucault sia qualcuno che cerca di pensare costantemente questa sorta di loop tra ci disassoggettiamo ma ovviamente il disassoggettamento in quanto tale non è una forma critica hai bisogno di un soggetto critico ma il soggetto critico se viene lasciato a sé senza una forma di self-criticism rischia di essere ripreso dalle dalle dinamiche di potere grazie mille vogliamo raccogliere le ultime ci sono Paolo Roberto io vorrei tornare un po' sulla questione intanto grazie per il suo intervento io non ho letto il suo libro non sono un profondo conoscitore di Foucault però vorrei tornare più sulla questione principale che lei ha trattato che è la questione dell'attivismo diciamo prendendo spunto dalla definizione di Foucault che fa nella volontà di sapere del potere che Foucault utilizza una definizione molto larga perché dice che il potere non è un'istituzione non è una struttura ma è il nome che si dà a una situazione strategica compressa in una società data ecco questa definizione è così larga del potere in qualche modo non rischia mi pare che anche l'intervento di Gatto andasse un po' in questa direzione di costituire un dispositivo talmente ampio talmente ingrobante e non è un caso che in questo testo poco dopo vi hanno definizioni esplicate delle forme di esistenza del potere che sono sostanzialmente tutto ciò che si raccoglie in contraposizione a questa forma di potere ingrobante che però ecco costituisce un dispositivo molto forte molto potente che forse ci impedisce di pensare un'articolazione concreta del potere Giard Tusserre diceva che il potere era rapporti di forza però poi distingueva la struttura sovrastruttura cioè articolava questa dimensione in Foucault mi chiedo se sia possibile costituire questa articolazione e anche pensando proprio l'utilizzo che è stato fatto di Foucault recentemente con questa definizione io mi chiedo come possiamo distinguere per esempio fra democrazia e dittatura per esempio se poi si mostra che l'essenza di questo potere peraltro è biopolitica quindi a che fare con la vita delle persone nella forma appunto preistituzionale cioè anche istituzionalizzata quindi ecco prenderei la questione di relativismo da questo punto di vista dalla definizione che diamo del potere e dei rapporti di forza che ne consegono grazie vado io perché c'è anche Giuseppe gli diamo la parola tra un attimo allora ti faccio due domande veloci una è sono molto d'accordo sull'idea con cui concludi il libro e con cui anche porti in avanti l'elaborazione di Foucault cioè l'idea del noi la domanda però ovvia è alla fine il noi chi è cioè ripensando e qui c'è la seconda domanda ripensando a quello che accade negli anni 70 per esempio in autori di teoria critica come Marcuse la spasmodica ricerca che c'è in quegli anni è quella di identificare qual è la classe che sostituisce il proletariato o quel gruppo sociale o quel noi o quella entità che in qualche modo può farsi carico dell'istanza rivoluzionaria no ora se tu evochi un noi la questione è chi è appunto come lo possiamo qualificare come si forma come si può formare come potrebbe formarsi ok va bene questo è una e da una domanda da un milione di dollari lo so ma proviamo proviamo a rispondere la seconda è appunto questa cosa cioè sempre Marcuse in quegli anni fa una cosa che tu stavi un po' dicendo adesso alla fine cioè una delle cose da fare è di articolare delle forme di soggettivazione alternative a quelle che si impongono no e Marcuse in quegli anni è proprio quando lui dedica sono gli ultimi dieci anni alla sua vita in cui diceva vabbè ma il tema è estetico nel senso non tanto della espressione artistica ma nel senso della sensibilità cosa che evocava anche prima Lorenza parlando del corpo della sensibilità mi chiedo se anche per Foucault valga un po' questo cioè se il tema delle forme di soggettivazione non assoggettanti qui riprendo anche le cose che diceva Alfredo abbia a che fare con questo con una trasformazione della sensibilità umana che poco poco non è utopico e di più cioè è no cioè come dire come facciamo a trasformare la nostra sensibilità è una di quelle cose che fa pensare un po' al tratto più ingenuo dell'utopismo marxiano cioè quello per cui dice vabbè poi dopo cambia tutto no la mattina andremo a pescare il pomeriggio facciamo lezione e la sera invece andiamo in fabbrica no e tutto va bene oltre al fatto che è un problema di come si creano queste nuove forme di sensibilità che cos'è cioè cos'è una sensibilità ecco quindi la domanda per Foucault sarebbe che cos'è una soggettività non assoggettata soggettante eccetera è una cosa che esce la reazione di potere chiaramente no perché non se ne esce quindi è una forma in cui il potere ha un esercizio è come buono giusto appropriato no ok e poi c'è Giuseppe sì io proprio al volo perché mi lego a quello che ha detto adesso il professor Mordaccio e il professor Gatto prima perché secondo me è interessante il ritorno a Kant a un certo punto di Foucault il giustamente quando si dice che in quella conferenza Foucault dice la critica deve ordinare senza imporre la sua legge lui poi nelle prime lezioni del corso quello sul governo di sé e degli altri lui spiega in maniera proprio con riferimento a Kant in maniera proprio chiara questo questo passaggio cioè dice noi non dobbiamo fare la critica delle critiche cioè la critica tipo la critica della ragion pura la ragion pratica la critica del giudizio appunto che stabiliscono i limiti quello che io cerco è la critica dell'offklerung cioè quella critica che apre fondamentalmente e in questa offklerung che è un illuminarsi non è un illuminismo nella prospettiva di Foucault cioè è un è un movimento come dice peraltro anche Kant quindi questo è un momento interessante e non è un caso che il discorso sulla riflessione userei proprio questo termine del soggetto assoggettato che rischia di riassoggettare qualcun altro con la critica venga fatta proprio quando si parla dell'illuminismo cioè Foucault vede chiaramente il rischio di una dialettica dell'illuminismo questo secondo me in quei testi è abbastanza evidente nel momento in cui lui dice esplicitamente le critiche di Kant pongono limiti il testo sull'offklerung e sul conflitto delle facoltà invece apre è come se fosse un qualcosa che squarcia questo limite per cosa? Per il dir vero alla fine in fin dei conti quello è il punto fondamentale anche perché da questo punto di vista c'è in Foucault paradossalmente forse in quegli unison in quei passaggi anche un'idea di progresso cioè che è un progresso ovviamente giocato sui margini come si diceva prima che non significa sottrazione dal potere ma non essere governati così e uno può vedere come dice Kant nel conflitto delle facoltà il segno prognostico di questo progresso non significa che mi libero dal potere però questo secondo me è interessante come Foucault veda nell'illuminismo sia la dimensione appunto dell'aprirsi ma sia anche poi a quel punto la necessità della riflessione quindi di questo scatto che la critica fa nel criticare se stessa in quanto ormai sono nel lessico cioè in quanto forma di vita proprio per evitare che si incancrinisca quindi secondo me questo è un aspetto interessantissimo degli ultimi anni Foucault ma mi era solo venuto in mente sentendo quello che si era detto grazie mille ci sono altre domande sono direi di no vai pure diciamo che ne hai abbastanza vado con con la lista dunque non grazie grazie mille per tutte queste domande e che sono interessanti importanti non sono sicuro di riuscire a che riuscirò a dare una risposta convincente a tutte ma ci proviamo dunque rispetto alla prima domanda sul relativismo e la definizione del potere come che rischia di essere troppo ampia e quindi di inglobare un pochino tutto e di non e di non permetterci più di fare delle differenze tra diversi regimi politici per esempio insomma o che è un un po' il problema che già un qualcuno come Nancy Fraser poneva a Foucault che è che è precisamente se se assupiamo questa dimensione così ampia di potere allora a quel punto perché resistere perché opporsi a un certo tipo di pratica piuttosto che a un'altra no non 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 abbiamo più gli strumenti da un certo punto di vista per fare le differenze dunque due due cose veloci su questa questione che è immensa e che quindi non riuscirò a trattare esattivamente la prima cosa che che vorrei dire è che dal punto di vista teorico quello che cerco di fare nel libro specialmente all'inizio è dimostrare che il modo in cui Foucault definisce verità potere e soggettività specialmente a partire dal 78 permette di tenere i tre termini distinti concettualmente anche se per Foucault questi tre termini potere verità e soggetto sono costantemente in rapporto l'uno con l'altro e si formano l'uno con l'altro da questo punto di vista sono d'accordo con quello che dicevi tu che ci sono alcune formulazioni che si trovano specialmente nella metà degli anni 70 in Foucault che danno un po' l'impressione di questa sorta di definizione troppo larga di quello che è il potere ma da molti punti di vista leggo quello che Foucault fa a partire dal 78 come una risposta ad alcuni problemi che si rende conto di avere quando scrive quando da il corso su bisogna difendere la sua società quando scrive sorvegliare e punire e quando scrive il primo volume della storia della sua società quindi diciamo un primo punto che vorrei mettere lì è mi sembra che nel Foucault post 78 il Foucault che ritorna accanto il Foucault che comincia a pensare alla critica in un certo modo il Foucault che fa una differenza tra giochi e regimi di verità ci sia precisamente questo tipo di attenzione e autocritica anche rispetto al rischio di dare una definizione troppo ampia di potere che non permette più di fare differenze tra i i tre nuclei che Foucault a partire da quel momento considererà cruciali come che sono la verità il potere e il soggetto che si rapportano l'uno con l'altro ma senza ma senza mai potersi ridurre l'uno all'altro e il secondo punto che vorrei sottolineare tornando su una cosa che dicevo prima è che se c'è un postulato che possiamo dedurre da quello che Foucault ha scritto forse l'unico insomma sappiamo quanto Foucault fosse allergico ai postulati ma è questa idea secondo la quale da un certo punto di vista la distinzione diciamo un rapporto di potere comincia ad essere pericoloso secondo Foucault quando si irrigidisce in una forma che ne rende la reversibilità sempre più difficile penso che ci sia in Foucault questa idea di precisamente perché il potere non è una cosa che si possiede ma è un rapporto diventa pericoloso soprattutto quando nelle situazioni in cui la reversibilità di un rapporto di potere diventa quasi una situazione limite e da questo punto di vista diciamo il postulato positivo che corrisponde a questo è diciamo il modo in cui Foucault pensa alla resistenza è ridare non uscire dalle relazioni di potere ma ridare mobilità e reversibilità a un campo di relazioni di potere che aveva tendenza a fissarsi e a dirigidirsi con delle differenze tra quelli che avranno sempre la meglio nella relazione e quelli che avranno sempre la peggio questa non è una cosa che Foucault dice mai esplicitamente ma magari in un'altra occasione possiamo parlare dei tanti punti in cui mi sembra che Foucault sia un'idea che Foucault suggerisce quindi da questo punto di vista mi verrebbe da dire c'è un modo forse di usare questo postulato per fare delle differenze per fare una differenza tra un regime democratico che in molti suoi aspetti permette una reversibilità dei rapporti e un regime autoritario che invece ha tendenza almeno in certe sfere della vita pubblica a fissare i rapporti quindi questo è diciamo un inizio un tentativo di risposta per questa domanda che comunque è molto importante ed è molto vasta e questo mi permette anche di andare forse saltando un paio di cose all'ultima domanda che Roberto mi ha fatto sul problema del potere del potere buono del potere giusto come fare a definire in chiave fucoltiana questa sarebbe la mia risposta insomma è chiaro che Foucault non ci dà penso degli strumenti per definire l'esercizio giusto l'esercizio buono del potere ma ci dà credo degli strumenti per diffidare costantemente di forme di rapporti di potere la cui reversibilità diventi la possibilità di reversibilità diventi sempre più piccola quindi è chiaro che Foucault non è il teorico al quale dobbiamo o possiamo fare riferimento se vogliamo delle risposte nette su quello che è giusto su quello che non lo è è però credo un filosofo un teorico critico al quale possiamo fare riferimento se pensiamo che le decisioni su quello che è giusto pericoloso che possiamo accettare o che non possiamo accettare nel presente se pensiamo che queste decisioni debbano essere sempre prese attraverso un'analisi diagnostica del presente in quanto tale e non qualcosa che in un qualche modo il teorico critico ha già sa già a priori ecco quello che mi ha sempre affascinato in Foucault e mi ha sempre convinto è questa è questa idea secondo la quale il teorico non ha tutte le risposte e il teorico deve da un certo punto di vista diventare quasi un medico della cultura per dirlo come Nietzsche sporcarsi le mani analizzare quello che succede nel reale per poi formarsi un'idea su questa cosa è pericolosa oppure no è accettabile oppure no eccetera eccetera tornando sulla domanda sulla prima domanda di Roberto chi è il noi chi è questo soggetto della critica domanda da 100 milioni di euro ho tendenza a pensare a questo noi in conversazione con quello che scrive José Medina che parla di una molteplicità di gruppi di lotta ho tendenza a pensare a questo noi non come un diciamo noi identitario ma come la creazione emergente e militante da un certo punto di vista delle pratiche di lotta in quanto tale quindi non penserei a questo noi come una classe non penserei a questo noi come uno specifico gruppo etnico penserei a questo noi come da un certo punto di vista il prodotto contingente che viene creato dalle pratiche di lotta contro una certa forma di potere sapere quindi c'era un noi all'inizio degli anni 70 in Francia che lottava contro le condizioni dell'incarcerazione ma questo noi non era necessariamente una classe era un noi trasversale che implicava le persone che erano o un gruppo di persone che erano in prigione dei gruppi al tempo insomma marxisti maoisti eccetera eccetera dei liberali dei filosofi e dei pensatori critici che non volevano necessariamente essere diciamo inquadrati in uno specifico gruppo politico quindi la mia idea della creazione del noi attraverso la genealogia è un'idea che vorrebbe pensare questo noi come un gruppo aperto di tutti coloro che da un certo punto di vista si impegnano in una in una certa lotta e questo gruppo è aperto perché ovviamente una singola persona può far parte di diversi gruppi di lotta e di resistenza e questo è un modo di pensare diciamo che mi sembra affine anche all'allergia di Foucault per diciamo un discorso marxista marxiano solo basato sulla classe per esempio l'altra domanda che Roberto mi ha fatto sulle forme di soggettivazione alternative è molto interessante anche su questo discorso della trasformazione della sensibilità sono d'accordo con te che il discorso della trasformazione della sensibilità va un po' in una direzione diciamo utopica un pochino ingenua il modo in cui io leggo Foucault è piuttosto in una direzione di come ha detto spesso insomma trasformazioni concrete e limitate quindi quello che Foucault pensa quando parla di soggettivazioni alternative a mio avviso non è necessariamente una trasformazione globale della nostra forma di vita ma per esempio un modo diverso di rapportarci alla prigione per Foucault una forma di soggettivazione alternativa è semplicemente una forma di soggettivazione che prima pensava che le prigioni fossero necessarie l'unico modo che abbiamo di punire il modo giusto umano e che dopo aver partecipato delle lotte dopo aver letto dei libri si trasforma in una forma di soggettivazione che mette quel tipo di idea in questione e magari si comincia a impegnare per una trasformazione di quell'ambito specifico della vita pubblica quindi da questo punto di vista Foucault mi sembra un pensatore non utopico per il suo diciamo costante per la sua costante attenzione alla concretezza e alle trasformazioni limitate e quindi per lui una forma di soggettivazione alternativa non è necessariamente una forma di soggettivazione che si trasforma interamente ma una forma di soggettivazione che trasforma un aspetto di quello che pensa di quello che fa e ci sono tante cose da dire su questo mi sembra che sia appunto forse questa la differenza principale tra il modo in cui io leggo la possibilizzazione il modo in cui tu leggi appunto la critica la forma la necessità di un certo tipo di forma utopica della critica non penso che le due cose siano necessariamente in contrasto o diciamo opposte l'una con l'altra ma sicuramente in Foucault si ha questa sensibilità più attenta diciamo a delle trasformazioni di tipo lì diciamo limitato l'ultima domanda ritorno a Kant mi piace molto quello che hai detto il modo in cui hai posto la domanda in quanto tale sono d'accordo con quello che hai detto all'inizio su Kant non sono così d'accordo sull'idea di trovare un progresso in Foucault non non penso che la sua idea del non essere governati in questo modo sono d'accordo con te quando quando dici che l'idea di non essere governati così non significa liberarsi dal potere per sempre quello che ho detto prima eccetera eccetera sono d'accordo con te con l'importanza della riflessione della riflessività della critica e di questa forma di metacritica da un certo punto di vista che attraversa in realtà tutto il pensiero di Foucault perché se vai a leggere la tesi complementare che Foucault scrive sull'antropologia di Kant questo tema c'è già alla fine degli anni 50 quindi questa idea della critica della dimensione riflessiva della critica che Foucault trova in Kant è qualcosa che attraversa tutta la riflessione di Foucault e mi sembra molto interessante ancora una volta come per ideologia forse dipende da quello che intendi per progresso ecco io il mio modo di leggere Foucault e di leggere Foucault anche su questa idea della critica è sempre diciamo se per progresso intendiamo una sorta di percorso più o meno lineare verso forme migliori più giuste meno assoggettanti insomma di regimi di verità o di meccanismi di potere sapere mi sembra che non sia necessariamente quello che Foucault vuole dire penso che la riflessività in Foucault giochi più a livello di quello che dicevo prima cioè a livello di avere questa sorta di costante reminder che anche quando riusciamo infine a non essere governati così in un aspetto della nostra vita anche quando le nostre lotte infine hanno successo a un certo punto arriverà un punto tra qualche mese tra qualche anno tra qualche decennio in cui i rapporti di potere sapere all'interno della società si trasformeranno in modo tale che quel nuovo modo di essere governati diventerà di nuovo pericoloso diventerà di nuovo qualche cosa che deve essere criticato quindi progresso mi sembra mi sembra troppo ecco riflessività sì quello penso che sia una delle cose fondamentali che Foucault prende da Kant e questo fin dalla fine degli anni 50 sì sì sono d'accordo che in realtà non intendevo progresso appunto lineare però c'è una dinamica per cui ecco diciamola così quando una cosa diventa riflessivamente appropriata come inaccettabile resta tale secondo me questa è l'idea che prende da Kant del conflitto delle Foucault però sono d'accordo no no siamo d'accordo scusi ho chiuso soltanto su questo fatto allora intanto che c'è un tema di filosofia della storia cioè pur scartando come si deve fare un'idea di progresso lineare ingenua eccetera così magnifiche sorti progressive c'è un tema di cosa accade nella storia e la cosa che tu dicevi ora io mi trovo totalmente d'accordo cioè quello che accade nella storia è che ogni volta che si consolida una forma che può anche essere emancipativa nelle sue forme iniziali il rischio ed è anche la dinamica naturale nella storia è che diventi invece oppressiva questo è anche sempre successo quindi la critica non muore mai perché non bisogna morire mai l'altra cosa è che tutto quello che io ho detto non ci avevo pensato prima ma coincide completamente con quelle prime pagine la prima lezione del bisogno difendere la società quando lui dice registriamo un successo delle critiche locali le critiche locali quindi piccoli gruppi piccole cose piccole battaglie che funzionano e allora forse è meglio affidarci a quelle che non ha l'idea di una rivoluzione assoluta totale completa globale che peraltro corrisponde a quello che cercavo di dire nella idea di utopie per frammenti nel libro quindi ci siamo d'accordo allora forse è giusto che chiuda Alessandro che è quello che coordina io mi devo dire che ti ringrazio e che siamo stati tutti molto molto grati di quello che hai detto e che hai fatto no non aggiungiamo altre domande per non assoggettarti non rendere il laboratorio una forma di vita irrigimentata no grazie l'approccio è proprio quello che cerchiamo insomma che ci piace fare con con il laboratorio però l'invito è averti qui chiaramente a vederci e insomma compatibilmente con i tuoi spostamenti e viaggi tutti questi temi tra l'altro ritorneranno avremo un NC Fraser qui all'Università San Raffaele tra il l'8 e il 10 di maggio forse uno dei temi interessanti è proprio quello del progresso vorremmo lavorare sul testo di Amy Allen che tu conosci credo anche personalmente proprio sul tema del progresso tra l'altro di end of progress l'altro tema interessante appunto è questa è questa somiglianza di famiglia che c'è proprio a partire dal tema della riflessività della genealogia con Adorno no su cui Allen si sofferma molto ma insomma non aggiungiamo carne al fuoco credo che possiamo fermarci qui grazie mille grazie a tutti mi ha fatto molto piacere le domande sono state davvero molto stimolanti e molto interessanti anche per me sto scrivendo in questo momento un libro su Fanon come un teorico critico quindi magari la prossima volta vengo a parlare di Fanon insomma ottimo non venire armato però non verrò armato una 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 delle cose che cerco di dire nel libro è precisamente insomma che c'è bisogno di una di riconsiderare insomma di capire quello che Fanon ha detto a proposito della violenza in maniera un po' diversa dal modo in cui viene interpretato di solito ecco dai organizziamo senz'altro grazie a tutti dell'invito e delle domande grazie a te grazie a tutti grazie buona serata